Ripeto, non era una festa di partito, non era una campagna elettorale, erano le comunicazioni che nella sede più istituzionale del Presidente, perché informa il Paese alla vigilia del vertice europeo, del Consiglio europeo, tra l'altro il MES non era neppure oggetto del Consiglio europeo, quindi scientemente, dolosamente, dice tutta questo cumulo, questa serie impressionante di menzogne e in questo modo non solo lede il mio onore, la mia reputazione, per me l'onore vale ancora molto, ma è un problema anche l'umiliazione del Parlamento, si crea un precedente pericolosissimo, perché chiaramente a questo punto si degrada l'istituzione di governo, io nei giorni scorsi ho posto una questione sul quotidiano della Repubblica, la questione morale, ci sono dei ministri e membri di governo che vengono difesi, prevale lo spirito di partito e di coalizione anziché far dimettere, membri di governo responsabili di gravi circostanziati accuse e condotte, bene adesso scopriamo che anche il Presidente del Consiglio contribuisce a questo degrado istituzionale, addirittura con questi comportamenti dolosamente menzogneri, ecco perché il giuridio onore diventa l'occasione per ristabilire la verità, per ristorare i miei beni morali e delle intere istituzioni. Lei fa la giusta differenza e dice un conto è una festa di partito.